A cento anni dalla nascita del servo di Dio, Monsignor Alvaro del Portiglio, il Cardinale Arcivescovo ha presieduto martedì una celebrazione eucaristica nella chiesa dei Santi Gregorio e Siro. Monsignor del Portiglio, che a settembre sarà beatificato in Madrid, fu uno dei più stretti collaboratori e confidenti di San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei. Divenuto sacerdote nel 44, Don Alvaro si trasferì a Roma da Madrid, ricevendo anche numerosi incarichi nella Santa Sede, fino a quando nel 75 assunse la guida dell'Opus Dei. Nel 1991 il beato Giovanni Paolo II lo ordinò vescovo prelato dell'Opera. Il Cardinale Caffarra ebbe modo di collaborare con Monsignor del Portiglio, soprattutto nelle sue vesti di Gran Cancelliere della Università Pontificia Santa Croce. Nel corso della breve omelia l'Arcivescovo si è soffermato sulla pagina evangelica di Matteo, in cui Gesù consegna ai discepoli il Padre Nostro, una pagina che ci ricorda una grande verità della nostra fede. Il Padre vostro celeste sa di quali cose avete bisogno. Noi non ci rivolgiamo ad un estraneo, ma a qualcuno che ci conosce e che conosce anche il nostro bisogno e il nostro vero bene. Nel Padre Nostro Gesù ci insegna a riconoscere i nostri bisogni veri e i nostri desideri, dandoci un ordine della preghiera che allarga l'orizzonte del nostro desiderio.